Ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale! Oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Yo-Yo Busy Life World perché è uscito un nuovissimo scenario gratuito che sarebbe il negozio di giocattoli qua lo chiama scena, non scenario, però sarebbe uno scenario e io già l'ho un po' visto perché questo aggiornamento io ho Yo-Yo Busy Life World e l'ho aggiornato qualche giorno fa quindi già l'ho un po' visto come è fatto però l'andiamo ad esplorare e a toccare bene a vedere per bene tutto in questo video quindi ora dobbiamo cliccare qui dove c'è scritto clicca per vedere e ora ci teletrasporterà lì l'ho già intravisto e mi sembra molto molto carino come ho già detto vediamo purtroppo Yo-Yo a volte è un po' lento a caricare eccoci arrivati qua abbiamo subito questa personaggia che sta alla cassa andiamo ad esplorare il luogo ovviamente con uno dei nostri personaggi ecco questi sono i personaggi che ho creato mercoledì Inid è quest'altra qui e andiamo ad esplorare con Inid che non so perché dopo questo aggiornamento mi si è tra virgolette resettato come dire però diciamo che i personaggi tipo io a Inid avevo messo il suo abito originale che avevo trovato alla posta quella volta che c'era una cosa tipo speciale e però ora che ho riperto il gioco ho trovato fortunatamente i vestiti ci sono sono andato alla posta però tipo io ne avevo due paia di Inid e ora non solamente uno di vestito di Inid uno lo mettevo a Inid e l'altro all'altro personaggio vabbè e quindi ha questa felpa che gliel'avevo messa quando avevo appena creato il personaggio vabbè allora qua vediamo subito cosa c'è un pacchetto di qualcosa che se si apre ah sono delle carte collezionabili noi abbiamo trovato Spider-Man tipo le carte Pokémon vediamo quest'altra Thor saranno quindi tutti degli Avengers e della Marvel vediamo quest'altra l'ultima oddio no ho aperto mi sbaglio uno di questi pacchi qua sotto c'è questa cosa un altro Thor forse mi sa che è in base al colore ah mi sa che è in base al colore rosso e e blu è Spider-Man poi questo qua credo che sia Arion Man infatti questo non lo so mi fa pensare a Superman oppure anche questo a Spider-Man però non può essere un altro Spider-Man perché i colori sono invertiti dalla bustina però Superman non è della Marvel e sulle bustine c'è proprio la M di Marvel vabbè vediamo chi è ah Capitano America vero perché anche lui è su questi colori e questo boh Hulk non ci avevo pensato verde doveva essere per forza Hulk e poi in questi pacchetti ho visto ci stanno queste bamboline vediamo anche quest'altro carine dai sembrano le bambole da Roma quelle giapponesi poi qua c'è questo pupazzino che mi ricorda il film di Red che è uscito l'anno scorso su Disney Plus l'ho visto è della Disney Disney Pixar dove c'è una bambina che si trasforma in panda rossa e mi ricorda troppo quel film poi ci sono questi altri super cute oh un pulsante no vabbè ma vediamo se ci sono altri no avete visto c'era un pulsante dentro questa nave ce la vediamo se si può richiudere non lo so si no vabbè che figo questo qua invece mi ricorda pen 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 che è questo pinguino mi ricordo pen pen che è la mascotte invece del negozio di Miniso vabbè qua abbiamo le buste per quando facciamo la spesa dopo queste sono due palline a sorpresa cioè due scatole con le palline a sorpresa vediamo cosa troviamo oh ma che è cos'è una gallina vediamo un'altra carino poi le posso usare per ri addobbare la mia casa su Gioia perché quella là dopo l'aggiornamento non solo ho trovato i personaggi come li avevo vestiti all'inizio ma ho anche ho trovato tutta la mia casa arredata con i liaetti con le mensole però non aveva più gli oggetti tipo le bamboline vestiti che avevo poggiato non c'è più nulla mi sa che mi ha fatto tipo il reset che ora tutto quello che avevo toccato è tornato al suo posto tipo vabbè andiamo avanti ci sta qua sopra questo che tipo è un'immagine che forse dobbiamo ricostruire sì forse ne dobbiamo toccare due per scambiarli ah andiamo tra in quanto tempo ci riusciamo allora questi due fanno così ok il panda già l'ho creato creata oh wow ho spostato pochissimi blocchi tipo tre e ho formato l'immagine vabbè poi andiamo di qua che già vedo cose molto molto carine allora queste bacchette carinissime poi questi bellissimi i polipi quelli che esistono anche nella realtà che tu li rigiri e fanno un'altra faccia che carini stacolo verde e rosso poi questo qua che è viola e blu però la faccio sempre la stessa che peccato poi queste sono delle bamboline apriamo questa che mi sembra la più carina che cute poi queste sono tipo delle corna di Monster & Co forse tipo ma questa mi ricorda vampirina ho tipo le orecchie da vampiro tipo cioè da pipistrello perché da vampiro queste invece mi ricordano tipo Sully di Monster & Co Sully però perché le mette così male cioè dovremmo mettere più vabbè comunque ah poi questa io apro sempre una copia per giocattolo vediamo ah sono tipo dei dadi per creare le costruzioni carino però io tipo qua questo blu ho intravisto oh no troppo belli allora qua c'è un altro bambino via ecco il negozio è solo per noi qua abbiamo tipo il reparto macchinine e maschere abbiamo questo che io adoro il cappello di Stitch no vabbè ragazzi è troppo bello a me piace troppo il film di Lido e Stitch e Stitch proprio in particolare troppo bello questo una cosa bella che alza e abbassa le orecchie cioè è troppo figo come quelli veri perché tipo questi tipo di cappelli fanno davvero così questo qua è un personaggio della Sanrio che non ricordo come si chiama però carinissimo anche lui andiamo non abbassa lui ah si non l'avevo cliccato bene bisogna cliccare le zampine queste qua come quelli veri poi qua abbiamo delle maschere sempre degli Avengers della Marvel degli occhiali qua altri cappelli questo è tipo un cagnolino questo è ispirato a Cinnamoroll secondo me che Cinnamoroll non ha il non ha il fiocchetto però è troppo simile quindi se non l'hanno ispirato poi qua delle macchinine e di qua io questa qua l'avevo già aperta sono una specie di Funko Pop Lego ah si io ne ho uno ho capito io ne ho uno sono una specie di Funko Pop però infatti di Lego io qualche anno fa mi avevano regalato uno di questi però era tipo di Ermione e li hanno rifatti su Yo-Yo carinissimi oddio ho visto un altro reparto che non avevo visto poi qua questi robot qua fantasmino vampiro fantasmino vampiro queste sono delle costruzioni vediamo apriamo ah che figo queste le clic fanno diverse forme poi qua tipo sono dei personaggi proprio che esistono ho visto in tutto alcune cose sono proprio dei personaggi che esiste infatti mi chiedo se per questo pupazzino del panda lo sono ispirati al film di Red io infatti qua ho visto in questi Funko Pop Lego ho trovato Alice accanto ci sta il coniglio questa è la tartaruga ninja e poi quello là quello accanto alla tartaruga ninja è sempre verde non so bene che sia però credo sia tipo qualcosa di Star Wars qua c'è tipo questo pianoforte ora alzo il volume così sentiamo se fa umori la musichetta ma ci sta di solito su Yoya si fa si fa il suono e ragazzi scrivimi nei commenti se faceva sta musichetta di sottofondo ve la faccio risentire oppure qualcosa di simile anche negli altri scenari perché sinceramente non ricordo se era silenzioso oppure no vabbè comunque poi di qua ma qua l'avevo visto perché come vi ho detto io l'ho aggiornato qualche giorno fa non oggi stesso Yoya quindi avevo un po' sbirciato allora qui abbiamo lo slime vediamo vediamo apriamo no vabbè che figo questo non è come sotto la life world nella posta ci sono gratuiti cioè non è che sono i regali limitati che se scaricate tocca la life world tra un mese non li trovate più ma proprio se voi andate a cercare la posta ci stanno gli slime però sono già pronti qua si creano mi sa si creano proprio direttamente allora creiamo uno slime questa è la colla ah no forse è già pronto non si capisce avevo visto tipo una cosa riguardante lo slime qui ah dobbiamo mischiare nel barattolino la boccetta con l'arcobaleno disegnato e la boccetta con la stellina quindi prendiamo questo e ci verso questo che non riesco a versare si deve aprire forse contemporaneamente li devo versare non va oddio non ci riesco non so se va aperto qual è l'immagine fa il sacchetto aperto quindi non so boh vuole dire che rimarremo con il mistero di come si farà oddio ho visto la cosa troppo carina aspettate poi qua abbiamo i salvadanagli a forma di porcellino il classico poi questo qui è un personaggio dei videogiochi che non ha videogiochi di questo personaggio non lo conoscono anche bene però si chiama mi pare kirby troppo carino questo pulcino che oddio cos'è questo uovo e poi questo pulcino che ma cosa è questa roba che sto tirando fuori questo pulcino ehi sta scendo e poi questo pulcino che non so se si sono ispirati a qualche personaggio che io non conosco ma guardate qua ci sta questa scatola che mi sa dentro c'era queste puntine non è che vanno infilzate aspettate che ho visto un'immagine con un uovo rosso vediamo che dice di infilare tutte quelle puntine e poi sale e poi salta sì perché questo è tipo il gioco del pirata io ce l'ho però con la versione di Frozen di Olaf che prende tu infili tutte queste cose e a un certo punto salta il personaggio vediamo è saltato che figo si potrà rimettere dentro sì che figo ok oddio lo sarà il mio personaggio ok continuiamo ad andare queste sono altre costruzioni che se le clicco non succede nulla oddio ho visto una cosa troppo carina allora qua no vabbè ragazzi non avete capito cosa ho visto io qua l'ho appena riconosciuto è uguale identico questo qui sarebbe il lego di Harry Potter che si apre si chiude è a forma di libro della lezione di trasfigurazione mi sono sicura perché io ce l'ho ha proprio questi colori e fatto così non si credo che hanno fatto la copia esatta no vabbè è fighissimo piace tanto queste sono altre cose del tempo non lo so e qua la parte che io non l'ho esplorato tutto quindi che carino vediamo i pazzini dei coniglietti cambia vediamo questo che è un cagnolino invece oh che carino ma forse sono tipo ispirati a come si chiamano quegli animaletti tipo della crayola ah i washimol che prende quelli tu li colori e poi li sciacqui forse questo è tipo il kit per curare questo è un bambino via ah e poi è finito si questo invece è una di quelle lavagnette vediamo si che figo si può scrivere però come si fa a cancellare col dito vediamo poi qua ah tipo una mini cucina ed è finito qua allora devo dire mi ha sorpreso molto questo scenario molto carino devo dire molto carino poi la cosa che mi piace è che hanno fatto un sacco di soggetti ispirati a cose a personaggi che si trovano nella realtà questi sono gli avenger le carte degli avenger questo il panda di red che non so se l'hanno fatto apposta però cioè non so se si sono ispirati a quel film per farlo però mi ricorda troppo quel film quindi lo conto come se hanno fatto apposta a fare quello lì poi questo mi ricorda il piguino di pen pen come ho detto quindi mi piace e poi tipo mi piacciono anche questi i polipini che pure questi esistono sulla realtà cioè non li ho mai visti dal vivo però tipo li ho visti su amazon poi gli adoro che hanno fatto questi qua a forma di stitch questo qui della sanrio che non ricordo come si chiama e questo è ispirato cinnamoroll diciamo che hanno fatto molte cose ispirate a dei personaggi così che non è in realtà quindi è tra le cose più belle e la cosa che mi piace di più penso sia il lego di harry potter perché qua non c'è scritto di harry potter non ci stanno i personaggi che lo assicurano però ve lo assicuro io che è praticamente uguale identico vi giuro è lui mi ricordo benissimo che si apre come si apre è uguale anche i colori quindi mi piace un sacco credo l'oggetto preferito è questo poi io ce l'ho quindi sono ancora più sicura che si sono ispirati a quello e niente quindi questo qui era il negozio di giocattoli spero che un giorno riesco a capire come creare lo slime perché non riesco neanche ad aprire la scatola quindi boh magari un giorno ci riprovo quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao